Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti Cerca il tiro, si sblocca il risultato E segnano il primo gol dell'incontro Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire Un contropiede portato in maniera perfetta E con questo gol si avvicina perché ora è a meno uno dal capocannoniere